Con questa lettera dell'ambasciatore americano al sovrintendente di Arezzo si annuncia un'iniziativa veramente importante internazionale per la cultura di Arezzo che andrà negli Stati Uniti. Abbiamo avuto l'opportunità di un contatto diretto con l'ambasciatore degli Stati Uniti che ora è ministro degli esteri, che ha manifestato grande attenzione per la città di Arezzo e per le opere della città di Arezzo. Io ho avanzato l'ipotesi di portare in America l'opera più importante che abbiamo ad Arezzo, l'opera unica, il crocifisso di Cimabue. C'è stata una corrispondenza tra il sindaco Fanfani e l'ambasciata e oggi c'è stata trasmessa anche una segnalazione, una richiesta anzi, una richiesta vera e propria al sovrintendente. Stiamo lavorando a questo, stiamo lavorando per far crescere la considerazione mondiale della città di Arezzo e delle opere d'arte che essa contiene. Ha pochissimi note. Vede, il turismo culturale è sempre stato considerato nel nostro territorio un fattore secondario. Io lo considero un fattore primario che può aiutare a superare le difficoltà che altri settori, come quello produttivo, in questo momento attraversano, aiutando complessivamente la nostra economia. Su questo stiamo lavorando fortemente assieme all'assessore Macri che ringrazio per tutto quello che sta facendo.